Salve, allora bentrovati, questo qui è un video assolutamente chiacchiericcio, nato proprio dalla voglia di stare un po' con voi, girare un video, visto che questi sono giorni per me molto pieni di roba da fare e non trovo mai il tempo, sono in condizioni un po' bruttine perché non mi sento tanto bene stamattina, infatti ho preso un antinfiammatorio poco fa, ma sopravviveremo. Scusate gli occhiali, in questi giorni sto soffrendo molto di mal di testa, che è un male che mi colpisce molto spesso, forse con il cambio di stagione, con l'uso continuato del pc, insomma sto soffrendo molto di mal di testa, mal di occhi, quindi preferisco tenerli su. E mattina ci sono tanti rumori, tra cui l'aspirapolvere al piano di sopra, ma soprattutto i veicoli fuori, quindi scusate, i rumori di sottofondo e mancabili. Cosa faremo in questo video? Anzitutto si chiacchiererà del più e del meno, vi aggiornerò un po' così su di me, sulla mia vita, sulla mia vita è un parolone, sulle mie giornate va, e poi vi faccio vedere qualche acquistino sparso che ho fatto, e vi anticipo che ci sarà verso la fine una parte dedicata a una pasta modellabile che ho comprato ieri, insieme ad alcuni aggeggini studiati proprio appunto per giocarci, per modellarla, quindi se non vi interessano gli acquisti, gli abbigliamento e quant'altro, volete schippare e andare direttamente alla fine, ci sarà un close up appunto su questa pasta modellabile. Allora, che dire, sono sempre vogliosa di fare roleplay, cioè li elaboro nella mia mente, ma richiedono tempistiche differenti, un impegno maggiore, e come vi dicevo in questi giorni non sto trovando proprio il tempo anche di guardare video, per cui la sera ne riesco a vedere massimo un paio, poi crollo, ma sappiate, per tutti gli amici che sanno che se li seguo, che i vostri video sono nella mia playlist, guarda più tardi e li recupererò tutti, speriamo in questi pochi giorni di vacanze pasquali. Allora, qui ho con me un pacco di salviettine, comprato proprio ieri, per questione di necessità, lo prendo giusto per fare qualche rumorino, ho sempre paura di fare i rumori con lo zoom, perché rispetto alla voce vengono amplificati al punto che possono risultare fastidiosi. Queste sono veramente economiche, costavano 80 centesimi, sono della linea nulla, non hanno neanche un nome, ah no, innova, senza alcol, tonificano e rinfrescano, salviettine delicate, con gli occhi, viso, labbra, non contengono alcol, hanno una durata di 3 mesi, se qualcuno le ha provate, ma dubito, le ho prese perché le salviettine le utilizzo di rato, perché in genere preferisco struccarmi per bene con il latte, il bifasico, quindi giusto per quando non ho proprio voglia di stare lì a struccarmi, le utilizzo. Allora, come vi dicevo sono giorni per me veramente impegnativi, ieri sono andata a fare la visita sportiva per la pratica dello sport, io non li so fare gli hands movements, cioè mi sento veramente negata, però quando li fanno gli altri mi piacciono tantissimo, dicevo e stranamente sono risultata idonea, anche se sono un po' tachicardica, ma i soggetti ansiosi come me capiranno questo fattore, per il resto tutto bene, è stata una visita molto semplice e a ritorno, visto che ho dovuto fare un bel po' di strade a piedi, mi sono fermata in un negozietto cinese che vende un po' di tutto, cioè sono questi bazar in cui puoi trovare dalle matite colorate alle mutande, alle lampadine, fino alla torce elettrica, cioè veramente sta di tutto e c'era una cosa molto carina di abbigliamento, tant'è che ne ho approfittato. Allora, questo è il periodo del cambio di stagione, io vorrei veramente comprarmi un sacco di roba, ma devo essere parsimoniosa e dilazionare le spese perché a parte che ho un sacco di pagamenti, di cose in questo periodo, poi vorrei mettere da parte qualcosa per le vacanze estive, magari fare un viaggetto, vedremo, e quindi compro poche cose ed economiche qua e là, nessuna spesa, nessuna spedizione punitiva come altri anni, quindi ho preso, in questo negozietto cinese c'era praticamente, era scoppiata la moda dei volane, delle ruche che si stanno vedendo veramente in tutte le salse e io ne sono fortemente attratte, quindi ho ceduto a due cosine a tema volane, appunto. Allora ho preso questa blusa camicetta in tessuto molto leggero, tipo jeans, fatta in questo modo. quindi come vedete ha una vestibilità estremamente morbida, anche addosso è molto confortevole, ha le maniche a tre quarti con questa scampanatura, è un peplum non troppo esagerato, lunghezza normale, diciamo sotto la, alzo il bacino, ecco sui fianchi, si boggia sui fianchi, ed è estremamente carina, mi è piaciuta veramente tanto e l'ho pagata da, non si vede niente, ve lo dico io, da 17 euro, mi è venuta 14, qui dice che è made in Italy, crediamoci, insomma questi cinesini non sono poi così economici, se pensiamo ai prezzi di H&M, di Alcott, siamo là, niente di particolarmente economico, e l'altro capo che ho preso da questi cinesini è molto particolare, allora, è sempre una maglia barra blusa, ha una prima parte superiore in similpelle con la manica corta, è sempre una rouge, e poi scende l'arca scampanata in tessuto leggero di cotone, quasi felpatino, grigio, dietro è molto particolare perché ha una apertura, una chiusura a goccia con un nastrino, vedete? Questa mi è piaciuta veramente tanto, l'ho immaginata sia un po' più elegantina, magari con un pantalone skin è una scarpa un po' alta, un tronchetto alto, un décolleté alto, e sia con un pantalone magari modello boyfriend, è anche nero, e le mie superstar grigie, ho un paio di scarpe della ginnastica, molto molto carina, questa qua, sempre da 17€ è venuta a 14€, e anche qua c'è scritto made in Italy, e queste, aiuto, stavo tirando via i capelli, e queste sono state le cose più carine che ho preso, perché poi ho acquistato un set di calzini, si dai cinesi, pompea, esatto, in questi colori molto simpatici, un rosso acceso, un giallo tenue, e un bel indaco o cobalto, non so, è una via di mezzo tra un blu e un viola, sono costate tantino, 5,50€, sono quelle che appunto arrivano alla caviglia, però c'erano anche altri calzini più economici, ma questi sono 100% cotone, quelli là erano 80%, 85% cotone, e il resto sintetico, e anche quel 20% di sintetico a me dà molto fastidio, mi fa sudare il piede, comunque non li sento belli, confortevoli, quindi ho preferito spendere qualcosa in più, anche perché io questi li utilizzo anche per far sport, quindi a maggior ragione, ho bisogno del cotone, questi, e poi ho preso un top sportivo, fatto così, con la coppetta lì, interno, vedete, e dietro è incrociato in questo modo, è molto bello perché è con il nero, un color corallo molto acceso, e il bianco poi ha questi bordini giallo fosforescente, è costato solo 4,50€, non ha cuciture, quindi si infila come un top normalissimo, e l'ho preso perché a parte che io consumo quantità industriali di questi top, poi quelli che trovo da Decathlon, per non parlare di Nike, Adidas, costano una marea di soldi, 4,50€ mi è sembrato un prezzo onesto, poi se non dovesse risultare così comodo, ok, non sarà stata una grossa perdita, ecco, anche perché parliamoci chiaro, anche i top di Adidas o di Nike sono in tessuto tecnico, quindi in poliestere o comunque tessuti sintetici, quindi tanto vale provare questi, c'erano anche altri colori, se mi ci trovo bene magari ne prenderò altri, intanto io sto sentendo un sacco di rumori, veramente perdonatevi, ma io non riesco come vi ho detto a registrare di notte, quindi ho così o niente, l'ultimo acquisto modaiolo che avevo fatto è stato da Stradivarius, tapping molto scadente per via delle mie unghie, tornate corte, come potete vedere, trattasi di questa maglietta in cotone garzato, si dice garzato, fatta così, allora non ha niente di che se non questa scollatura con dei passanti e questo laccio blu e bianco, questa maglietta fa molto mozzo delle navi e ho preso la M perché ha una vestibilità molto ampia, io adoro le cose larghe, infatti prendo sempre la L di tutto, però la M andava più che bene ed è semplicissima, ha poi degli spacchetti laterali e in un bel cotone molto morbido, bella, veramente bella e l'ho presa anche perché era in sconto al 50%, la 19,95 è venuta a 9,97, diciamo 10 euro, molto carina vero? Ho proprio bisogno di maglioncini primaverili, questa è una stagione in cui non so cosa mettere, passiamo all'acquisto che avevo anticipato l'inizio del video, ovvero questa pasta modellabile che ho preso sempre dai cinesi, già la confezione è deliziosa, guardate, sono 60 grammi di pasta flessibile, leggera, non toxic, costa 1,30 euro di questa marca qua, Harvard, come l'università e adesso la capriamo insieme, però prima vi faccio vedere anche gli attrezzi che ho preso per giocato per giocarci, c'è roba da bambini di due anni ragazzi, vedete c'è il mattarello, le formine, la forchettina, adesso vediamo un po' cosa ne esce. Allora, vado ad aprire questa, allora, ne prendo un po' perché prenderla tutta in questo momento è un'impresa, madonna che bello questo colore ragazzi, è un lilla stupendo, fantastica, ci giocherei otto ore così solamente a maneggiarla e passarmela tra le mani. Allora, cambio l'inquadratura e ci giochiamo un attimo insieme, ok? Benissimo, questa è la pasta, adesso io voglio aprire questa confezione qua. prendo prima di tutto questo mattarello bellissimo e la stendo come fosse veramente. Vediamo. Ok. Iniziamo a fare delle formine, qui abbiamo l'orzetto. Vediamo. Aiuto, si sta staccando. Non esce benissimo, ma credo perché io non ho una base adatta. Che carino. Poi facciamo naturalmente il cuoricino. Al limite poi queste formine le posso dare a mia mamma che fa i biscotti, almeno non avrò speso un euro e cinquanta inutilmente. che carino il cuoricino. Poi abbiamo il fiore. Stavo facendo un po' più qua. Eh, insomma, non è molto carino, ma è un fiore. Sì, è un fiore. Sembra anche una stella. Sembra più una stella, in effetti. Poi abbiamo... Ma cos'è sta cosa? Un alberello, credo. No, questo è uscito veramente male. Questo è uscito malissimo. Questo è uscito veramente un orrore. Era... Doveva essere un alberello. E poi abbiamo la farfalla che è stupenda. La voglio fare subito. La farfalla è fallita. E poi c'è questo mino. Questo lì è fantastico. L'omino non riesco a staccarlo perché è troppo piccolo. E anche l'omino non è venuto. Va bene. Esperimento fallito, naturalmente. Poi che c'è qua dentro? C'è un coltellino per tagliare così la pastina. Random. Una coppettina che non so cosa serva. E' una forchetta. Nel caso uno giustamente voglia mangiare questa ottima pasta lilla perché può sempre venire la voglia, insomma. Sto scherzando, chiaramente non mangiatela perché non voglio sentirmi responsabile di eventuali malori. E niente, dopo questa breve parentesi di infantilismo, io vi saluto. Spero che il video sia stato di intrattenimento perché era questa la finalità. Non è stato un video particolarmente studiato però personalmente mi piacciono anche questi tipi di video. A presto ragazzi. Vi saluto e vi mando un bacio. Ciao.